I ragazzi si parla di teatro, si parla di cultura, perché questo è il vero obiettivo, insomma avvicinare i ragazzi al teatro perché sono loro il pubblico di oggi ma soprattutto del futuro. Assolutamente sì, infatti l'iniziativa è Giovani a Teatro, questa mattina c'è uno spettacolo per i ragazzi dove tocchiamo Dante, Pirandello, insomma tutti gli autori importanti che loro studiano, Pascoli eccetera. Ringrazio ovviamente, io ho fatto questa operazione per le scuole, ringrazio chi già da anni lavora per le scuole sul territorio come Leidos, Mimo Sorricelli eccetera, come Red Roger, Pierpaolo Palma eccetera. Quindi io ringrazio loro per la loro disponibilità e per aver accettato il mio invito a fare questo spettacolo per incominciare un discorso con i ragazzi. La novità è che abbiamo voluto dare l'opportunità ai ragazzi fino ai 18 anni di venire a teatro pagando solo 5 euro con dei posti a loro dedicati. Basta inviare una mail a organizzazionechiocciolacittaspettacolo.it, si fa la richiesta e si ha questa tessera che è gratuita, vedete qui dietro alle mie spalle, gratuitamente si ha questa tessera, con questa tessera tutte le iniziative del Comune di Benevento riguardando il teatro danno diritto al ragazzo che ancora non ha compiuto 18 anni all'ingresso in sala o dove si fa lo spettacolo con soli 5 euro. Questa cosa è valida da subito ed è valida per Cittaspettacolo e per tutto quello che il Comune organizza. Anzi faccio appello alle altre organizzazioni che volessero anche loro avvicinare i ragazzi al teatro, di sposare l'iniziativa anche loro con la tessera Amico del Teatro. Direttore, guardando avanti alla fondazione Cittaspettacolo, ne parlavamo prima, potrebbe essere questo il primo step poi di uno successivo, magari di creare proprio una compagnia di ragazzi legata a Cittaspettacolo per avvicinarli ulteriormente, cioè non solo spettatori ma anche attori. Magari l'idea della fondazione potrebbe essere proprio quella di accedere a dei fondi più importanti, anche magari nazionali, creando una compagnia di giovani ovviamente coadiuvata da professionisti che sanno distribuire, che sanno vendere gli spettacoli, che sanno far circuitare, perché il teatro è legato assolutamente anche alla circuitazione e a tutto quello che ne comporta. Ovviamente la domanda te la faccio, già so che riceverò un commento di Cittaspettacolo l'anno prossimo, se hai già lavoro, che cosa c'è in cantiere, dacci qualche chicca dai. No, ci sto lavorando ma sarà un festival particolare anche quest'anno. Ricordo a tutti che l'anno scorso per la prima volta sul palcoscenico a Benevento abbiamo messo Lazza, Giovelier e Rove, quest'anno Lazza ha fatto il boom a Sanremo e anche due anni fa Mahmood l'anno dopo fece il boom a Sanremo. Quindi Cittaspettacolo porta bene. Direttore, poche settimane fa la scomparsa di Maurizio Costanzo, ci sarà uno spazio dedicato nella prossima edizione del festival? Vorrei tanto dedicare uno spazio, ovviamente come ho già detto bisogna poi vedere i bilanci e tutto quello che si può spendere perché come tu sei meglio di me per creare una serata all'altezza del personaggio bisogna invitare personaggi all'altezza di quest'ultimo e quindi se ci riesco con tanto piacere perché bisogna parlare di Costanzo con persone che ci hanno lavorato, che hanno condiviso con lui progetti, programmi eccetera. Quindi se devo farlo alla Noantri no, come si dice a Roma. Se viene una serata interessante anche sulla comunicazione fatta con chi la fa la comunicazione, allora con molto piacere, però certo ci sto pensando.